Se il cambio auto manuale si blocca o si inceppa non potrete circolare in sicurezza, cosa fare in questi casi? Di quale problema potrebbe trattarsi? Scopriamolo insieme. Il cambio manuale, come usarlo? Il cambio manuale auto è uno strumento delicato, saperlo usarlo al meglio comporta un minor consumo di carburante e vi permette di mantenere i suoi componenti fondamentali in buono stato, senza usurarli prima del tempo. Le regole fondamentali sono, rilasciare la frizione delicatamente scalare al momento giusto partire sempre e in prima sfruttare le marce. In sequenza, senza saltarle scegliere di non seguire queste indicazioni basilari potrebbe costarvi caro, in termini economici. Il cambio manuale, i suoi problemi. Se durante le operazioni di guida vi si blocca il cambio, saprete istantaneamente di dovervi recare dal meccanico per un controllo. Imprevisto, nel caso in cui siate lontani da un'officina, fermatevi e chiamate un carroattrezzi, visto che potreste rimanere bloccati e creare pericolo. Ovviamente, questo è lo scenario peggiore. Molte volte infatti un problema al cambio inizia con un inceppamento, una situazione comunque da non sottovalutare ma più facile da affrontare. In ogni caso, con il cambio malfunzionante non potrete certamente effettuare tutte le manovre necessarie alla circolazione in modo veloce e agile, quindi dovrete comunque fare controllare il meccanismo. Detto questo, cosa dovete fare quando il cambio manuale si inceppa? Perché si blocca il cambio? In alcuni casi, il cambio manuale dell'automobile si blocca anche solo per colpa di temperature rigide. Questo caso solitamente non è grave può capitare se avete lasciato ferma per diverso tempo la macchina al freddo. La soluzione? Prima di tutto, portate il cambio in folle, tirate il freno a mano e accelerate in modo da aumentare i giri motore, esercitando al contempo una pressione sul pedale della frizione per un paio di volte. Ora spegnete l'auto, attendete qualche istante e riaccendetela per controllare se il cambio si è sbloccato. Un altro problema che può causare un cambio bloccato potrebbero essere i livelli di olio bassi. In questi casi è fondamentale un controllo approfondito e il conseguente rabbocco, in modo da ripristinarli e sbloccare la leva. Se vi si è bloccato il cambio e avete un'auto recente, la prima cosa da fare è controllare i fusibili che ne regolano l'utilizzo. Basta un solo fusibile non funzionante a creare un blocco, per cui consultate il manuale dell'automobile per scoprire qual è e cambiatelo.